Inaugurato presso la Casa della Salute di Terra Nuova Bracciolini il nuovo accesso e il relativo parcheggio. Sei nuovi posti per disabili che sono stati messi al posto di quelli già presenti per i dipendenti della Clinica Riabilitazione Toscana, presente per metastruttura, e della Casa della Salute. Aggiunti anche due nuovi posti per le donne in gravidanza. Un servizio che accresce la fruizione di una struttura che serve un bacino di ben 10.000 persone. Resta in attesa invece la realizzazione del parcheggio fuori dai cancelli della struttura che, di proprietà del Comune Terranuovese, vedrà la sua realizzazione nei prossimi mesi. Al momento c'è il passaggio per i pedoni da dentro a fuori della struttura ma il parcheggio è provvisorio e sterrato. Realizzato anche un triplo accesso principale alla Casa della Salute, uno dedicato ai pedoni, mentre gli altri due per i due sensi di marcia dei veicoli. Soddisfatta la dirigenza della CRT che ha coordinato i lavori insieme all'ASL Toscana Sud-Est. In pochi anni infatti la struttura è cresciuta in numeri e in professionalità e anche l'accesso ad essa è un punto fondamentale per la fruizione dei servizi che offre.